Iniziamo a conoscere Patrizia Ba E a lei chiediamo Patrizia, da dove è nata l'idea del ristorante fuoricampo? L'idea del ristorante è nata da mio marito Antonio Trada Il quale ama tantissimo la parte sportiva E anche tutto sommato in sociale Gli piace stare in mezzo alla gente Quindi da lì è nata l'idea Poi abbiamo trovato questo posto incantevole Dove c'era questa struttura Gli oserei dire un po' lasciata andare Però torniata da tante opportunità Quale il campo da tennis, il campo da calcio, un campo da bocce Da lì è nata l'idea di creare un qualcosa Che potesse unire tante persone Dai più piccoli alle persone con qualche anno in più Patrizia, girando per la struttura Che avete appena inaugurato Vediamo tanti video, tanti monitor Che proiettano natura Un'immagine tranquillizzante Fuori c'è tanto verde E' un concetto studiato apposta Direi proprio di sì Anche il nome del ristorante al fuoricampo Ricorda un po' Dà l'idea dell'essere all'esterno Stare all'aria aperta E questo per noi era molto importante Anche gli stessi materiali Che noi abbiamo usato per arredare il locale Sono tutti naturali Partiamo dal legno Finiamo poi con la pietra Col ferro per esempio Quindi abbiamo proprio cercato Di creare un posto relax Quasi fosse un oasi Un'oasi a mezza collina Facilmente raggiungibile Un po' per tutti Sì direi che sì Anche perché piatto non è in cima a un monte Insomma è a un chilometro da Valdengo E quindi è facilmente raggiungibile Non dobbiamo dimenticare però Anche il discorso cucina Di questo ristorante Perché la cucina Comunque rispetta le nostre idee Abbiamo cercato di raggruppare un po' il tutto Nel senso che il cibo sarà naturale E le tradizioni saranno mantenute E magari con qualche piccolo aggiustamento Nel preparare un piatto Un po' di innovazione ci sta Siamo con Enzo Giacomini Sindaco di Pianto Signor Sindaco Cosa rappresenta questa iniziativa per il Comune? È un sogno che si sta realizzando In effetti Anche come programma che avevamo messo Era quello di valorizzare il nostro centro sportivo Che è un punto di riferimento Nella nostra comunità È un punto soprattutto anche per i giovani E anche per le nostre associazioni Che senza altro qui dovranno fare riferimento Perché abbiamo tutte le attrezzature necessarie Lei negli anni ha sempre cercato di trovare delle soluzioni Per valorizzare appunto l'area della Malina Ora cosa si potrà fare in quest'area? Già dalle immagini che vedete alle mie spalle Che avete visto anche voi tutti Un cambiamento notevole E qui sotto gli occhi Senza dire Qui non dobbiamo solo dire grazie Alla famiglia Trada Alla famiglia Abba E soprattutto Antonio Patrizia E anche Fabrizio Ecco Senza dimenticare anche il Cuoco Diciamo che è stato un inizio Ma cosa Così Le ho conosciuti Pena dopo che avevano vinto il bando E pian pianino Pian pianino Strada facendo Si è costruito Tante cose assieme Le abbiamo condivise Ma la cosa più positiva Che sotto un aspetto economico Si sono collati di loro tutte le spese Ecco Tanto per intendersi Quindi per noi Non lo so È un sogno veramente Che si sta realizzando in questo momento Siete ultima cosa Una battuta Velocissima Uno spot per il pubblico Per che venga a piatto Qui al ristorante fuoricampo La tranquillità La musica sottofondo Cold Air fuori E poi qui abbiamo tutto C'è il ristorante Abbiamo il parcheggio Abbiamo la palestra Abbiamo il pociodromo Insomma Di più di così Non si può avere Siamo ora con Fabrizio Abbà Contitolare del ristorante fuoricampo Fabrizio Su cosa vi siete basati? Qual è il concetto Che avete utilizzato Per tutta questa ambientazione? Direi molto particolare E singolare Dunque tutto si basa Su una piastrella Abbiamo guardato una piastrella Fornita da mia nipote La figlia di Patrizia Che è una redatrice E da questa piastrella Praticamente Siamo andati a scegliere i colori A scegliere gli abbinamenti Con il legno Con il ferro E tutto quanto Di lì si è poi Trasformato poco per volta Tutto molto aperto Tutto molto fruibile Tutto molto verde Siamo in mezzo al verde E questo aiuta molto I vostri clienti A stare in un posto tranquillo Vero? Sì sì Perché qui a piatto Chi viene a piatto Trova diciamo La tranquillità Trova colori tenui Colori diciamo Uno si può rilassare Si può rilassare tranquillamente Senza andare a cercare posti Lontani diciamo Dalla città In primo fascio collinare Un luogo ideale Per stare anche con la famiglia Con i bambini E fare dello sport Vero? Certo Qui abbiamo Campi da tennis Abbiamo Campi da bocce Campi da calcio La palestra Che adesso Ultimamente La ripristiniamo La mettiamo in uso Quindi abbiamo poi Altri progetti futuri Con degli altri Altri campi Per attività sportive Però progetti Ma penso che a breve Riusciremo a fare anche quelli Siamo con Luca Miola Chef del ristorante Fuoricampo Luca Qual è sarà Qual è l'orientamento Della cucina Del ristorante Fuoricampo? Sarà una cucina Tradizionale Cercando di Valorizzare Prodotti locali Tendendo sempre Tendendo sempre Ben d'occhio La tradizione E le regole Della cucina Cercheremo di dare Al massimo Come qualità Come quantità E come Prontezza Di servizio E niente Sarà una nuova avventura Speriamo che tutto Vada per il verso giusto E un ringraziamento Alla famiglia Trada Che ha dato a me Questa possibilità Di lavorare In questo locale Per i vini Cosa scegli? Abbiamo Siamo orientati Sui vini Non conosciuti Biodinamici Sia al bicchiere Che in bottiglia Luca Ultima cosa Già qualcuno è venuto A farti i complimenti O no? Sì Non sta a me dirlo Ecco Bene Ti ringrazio Luca Buon lavoro Grazie mille Arrivederci